ciao a tutti video veloce questa volta un po diverso dal solito perché lo faccio qui in casa visto che ho fatto gli acquisti questa mattina però non ho avuto tempo di farli subito subito dopo quindi ho approfittato di questa pausa in casa per fare questo video e postarlo subito per voi ho acquistato lo speciale numero 33 di zagor 160 pagine al prezzo di 6 euro 50 ritorno alla casa del terrore questa è la bella cover eccolo qui qui c'è la bellissima casa la casa del terrore testi di burattini disegni di sommacal e voltolini e qui insomma poi dopo parlerà anche dal racconto la casa del terrore che ecco che al numero 33 ecco qui qui fa riferimento infatti al numero 33 di zagor la casa del terrore infatti qui vediamo alcune alcune tavole questa una tavola che presa da quel vecchio da quel vecchio numero ecco queste chi l'ho letto di sicuro la riconosce comunque è uscito proprio proprio oggi questa mattina l'ho acquistato e volevo subito fare un video per ricordarvi il nuovo acquisto che ho fatto poi qui dietro c'è le prossime uscite in edicola dal 2 aprile i demoni delle nebbie vi ricordo che non solo i prezzi nuovi infatti qui già riporta il prezzo nato con l'aumento di 4 euro e 40 però metteranno le famose medaglie quelle ci sarà ogni numero ci sarà una medaglia dedicata a un personaggio bonelli e qui invece c'è il numero invece di maggio le scogliere del male anche qui 4 euro e 40 quindi sarà un'avventura questa con i vichinghi che andrà avanti ancora per un po bene metto via questo e ho fatto un acquisto extra che volevo farvi vedere non era previsto questo però mi sono letto un po di recensioni sulla rete e ne parlavano molto bene ero molto incuriosito da questo quaderni ucraini di igor che igor è un grande fumettista non solo fumettista ma anche musicista insomma fa decisamente un po di tutto però davvero un grande talento qui è una serie di quaderni che sono già uscito sono già usciti altri tra cui quello quaderni giapponesi che potete trovare in vendita non solo nelle librerie ma anche su amazon e questo qui è un altro della serie della serie dei quaderni che ha fatto disegnato igor lo sfoglio un po con voi intanto ve ne parlo qui parla il suo viaggio di due anni in ucraina dove incontrerà personaggi di cui qui riporterà le varie storie farà un po la storia dell'ucraina tra il passato e il presente il passato quando era sotto l'unione sovietica e parlerà dell'ucraina quella attuale quindi c'è davvero una graphic novel davvero tutta da da leggere e da guardare guardate che belle le tavole davvero i disegni sono molto ma molto non solo belli anche come colori la tonalità ma adatti per questo questo genere di di non possiamo chiamarli fumetti perché davvero questi sono più che dei fumetti sono dei libri dei libri con disegnati che meritano davvero la nostra attenzione guardate qui e quindi parla sia del della ucraina attuale ma purtroppo guardate davvero sono raccapriccianti anche queste tavole non voglio dirvi altro io ancora da leggerlo però vi dico solo che questo volume prezzo di 20 euro lo potete trovare comodamente comunque su amazon oppure recandovi in una libreria io ho voluto ho voluto provarlo perché ero incuriosito dalle belle recensioni che ho trovato in rete questi sono i due acquisti che ho fatto oggi e niente non ci resta anzi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani per un nuovo video flash ciao